La realizzazione del raddoppiamento della linea ferroviaria per Roma, se realizzata come indicato nel progetto ultimato in velocità per accedere ai fondi del PNRR, comporterebbe per il tratto da Brecciarola a Manoppello l'abbattimento di più di 60 abitazioni, senza contare le altre difficoltà che il raddoppiamento creerebbe al territorio di San Giovanni Teatino. Pur riconoscendo l'importanza del progetto, i cittadini si sono mobilitati in un comitato guidato dall'ex assessore al comune di Chieti, Gianni Di Labbio. Questo passo dove mi trovo è un altro che verrebbe soppresso, eppure è un punto nevralgico perché collega il centro della contrada con l'altra parte della contrada che si sviluppa lungo la Tiburtina Valeria. Eliminando questo significa che dall'altra parte della ferrovia sono a sé stanti e per arrivare nella parte commerciale dove ci sono le attività non le dico i giri che dovranno fare. Questa è una delle assurdità di questo progetto. C'è un altro problema da dirci, oltre alle case che saranno abbattute, ci saranno i depreciamenti di tutte le case che lei vede che sono a ridosso della ferrovia. Sicuramente si parla di 80 corse al giorno per il momento, ma può sostenere 193 corse. Lei si immagini 193 corse in una giornata, qui significa che passerà un treno ogni 10-15 minuti, le lascio immaginare le difficoltà che ci sono con un tracciamento così pericoloso al centro della contrada, peraltro. Il Comitato dei Cittadini Confer una soluzione ce l'avrebbe, sarebbe quella di utilizzare la linea ferroviaria che attualmente collega Chietiscalo con l'Interporto, per poi collegare quest'ultimo attraverso una variante che andrebbe realizzata ad Alanno. Sì, questo è il percorso naturale, è un percorso che non darebbe un impatto esagerato alla contrada, passa ai margini della contrada, passerebbe poi ai margini di stazione di monoppello, quindi non meglio di questa potrebbe essere la soluzione. E qui mi andrebbe da dire di rilanciare una proposta alla politica, se vuole veramente far rinascere al meglio questo territorio. Sul vecchio percorso, perché non pensano di farci una strada parco, che collega addirittura da Alanno fino a Pescara, così potrebbe essere utilizzata dai tanti che oggi sono a rischio sulle strade, con le bici o con le passeggiate a piedi, e dare un valore aggiunto a questo territorio, che se lo merita a tutti gli effetti. Signor Giustino, lei vuole rimanere qua? Sì, voglio rimanere qua perché ci sono altri, praticamente sono 83 anni che sto qua, cioè è un valore affettivo, dove vado io? Dopo 83 anni dove devo andare a vivere in un appartamento, ricostruire un'altra casa?